Ora abbiamo detto che una delle novità dello Zenith X è che si può cambiare l'interno semplicemente staccando queste clip molto comodamente, quindi c'è la protezione interna, frontalino si stacca anche lui così, dopo si hanno due alternative, o si lavano e il giorno dopo si rimettono perché asciugano veramente velocemente e come faccio io, siccome quelle erano un po' vecchiotte diciamo, si sostituiscono completamente e quindi basta riapplicare con le sue apposite punti plastici clip la protezione interna ed è sostituito, il frontalino è separato in materiale super traspirante e morbido viene applicato anche lui con le apposite clip e in due minuti vi ritrovate lo Zenith con l'interno nuovo ecco fatto assolutamente a posto, nuovo oppure lavate quello che avete tolto e lo rimettete il giorno dopo perché asciuga veramente in pochissimi minuti no